Sembra quello di Bellaria Infatti è una vaga somiglianza a quelli di Bellaria Che campanella squillante Il treno di adesso è proveniente da Palermo Quindi dovremo vederlo sbucare da qua E poi passare per il PL Ecco come brilla la lanterna Del passaggio a livello Brilla moltissimo Si vede che è una delle nuove infatti sono Wabco Ma quelle americane Fatte apposta per le LV830 Benissimo Il treno di adesso è proveniente da Palermo Qua ci troviamo in via del Mulino O meglio scusa ho sbagliato In via dei Mulini a Cefalù Provincia di Palermo Quindi mi sono spostato di molto Dall'Emilia Romagna Perché adesso mi trovo qua in Sicilia A Cefalù in provincia di Palermo Domani devo andare a Barra Franca A Barra Franca non c'è la ferrovia C'è però a Caltanissetta A Piazza Armerina e Cefalù A Piazza Armerina e Caltanissetta A Piazza Armerina e Caltanissetta A Piazza Armerina e Caltanissetta Ecco il treno proveniente da Palermo Sì da Palermo Eccolo Deve andare lento perché laggiù c'è la stazione di Cefalù NPBDH Semi pilota NPBDH Anzi no NPBDH Spinto da una E464 Molto probabilmente deve fare La coincidenza con quello per Catania Adesso Mi metto Sì In questa posizione Per vedere l'intercambio Con il regionale per Catania Mamma E invece Eccola la stazione di Cefalù Ecco la stazione di Cefalù Per vedere l'intercambio Sì La stazione di Cefalù La stazione di Cefalù Eccola la stazione di Cefalù Eccola la stazione di Cefalù Il treno proveniente da Palermo Deve fare Deve fare intercambio alla stazione di Cefalù Con il treno per Catania Eccola la stazione di Cefalù Questa è la terra dei fichi d'India Eccola la stazione di Cefalù Eccola la stazione di Cefalù Eccola la stazione di Cefalù Sembra che parta Sta suonando in continuazione Siamo proprio vicino a margine Ecco un vecchio palo FS Che fa il babbo il treno? Pare che venga adesso Per favore Per fortuna Che gioco di parole Eccola la stazione di Cefalù Per fortuna Eccola la stazione di Cefalù Ok, se ricordi We both Grazie. Ecco il regionale proveniente da Catania, o regionale veloce, o meglio, ecco il treno proveniente da Catania e diretto a Palermo Centrale. Regionale o regionale veloce allora, in sto caso. E ora suona in via Roma. E avrete via dei Moulini. Ah, è ancora rossa la lanterna, ci si vede. Ecco, si è spenta la lanterna di via Roma. Arrivederci. La Cefalu.